Con la manifestazione di oggi Confindustria vuole dare risalto a quella che è una volontà di far circolare attraverso i nostri giovani la volontà di fare impresa. Quello che più manca in questo periodo che stiamo vivendo è far crescere all'interno della nostra gioventù la capacità di valutare non solo il posto fisso, fare lavelino, fare il calciatore ma intraprendere una via imprenditoriale che può significare molto di più in termini di valori e in termini di futuro. Con questi progetti, 15 quelli del Cosentino, i migliori di questi verranno portati in un evento che rappresenta l'analogo di tutte le altre aree italiane e verranno definiti poi i vincitori su scala nazionale. I ragazzi si sono cimentati nelle loro classi aiutati ai loro insegnanti a fare non solo avere delle idee ma anche trasferirle in un business plan che ha dato loro l'idea di come si costruisca un'azienda non solo con le idee ma anche mettendo i numeri e determinandone i costi e il ricardo. Grazie a tutti!